ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base agli integratori date e assunti grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare beta 1 a cosa serve beta 1 a un integratore appartenente alla categoria degli integratori antiossidanti è commercializzato in italia dall'azienda eucare srl informazioni commerciali titolare eucare srl concessionario eucare srl categoria di appartenenza integratori antiossidanti forma farmaceutica compressa confezioni beta 1 40 capsule indicazioni beta 1 rappresenta un insieme sinergico ed equilibrato di nutrienti ed estratti naturali utili per proteggere l'organismo dall'azione dei radicali liberi e prevenire l'insorgenza di uno stato di stress ossidativo descrizione e caratteristiche i tocotrienoli appartengono insieme ai tocoferoli alla famiglia di composti denominata vitamina e rappresentano tra i più a importanti fitonutrienti presenti negli oli vegetali commestibili in particolare l'olio di palma tali composti sono dotati di una eccellente attività antiossidante e di proprietà antinfiammatoria ed immunoregolatrice infine di grande interesse il ruolo nella riduzione dei livelli di colesterolo dell'aggregazione piastrinica e nell'inibizione della proliferazione di cellule tumorali ingredienti vitamina c nicotinamide vitamina e t a verde camelia sinensis l foglie e s 95 per cento in polifenoli pinocorteccia e s 90 per cento in opc lute in olio di palma frutti e la esguina ensis di cui tocotrienoli di cui tocoferoli e staxantino a glutatione ridotto tripeptide ubiquitario derivato da acido glutammico cisteina glicina un antiossidante fondamentale impeccato in numerose funzioni biologiche incluse il trasporto di membrana i processi di detossificazione cellulare di xenobiotici e l'attività antiossidante grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato